Il comitato promotore del nuovo ospedale di Teramo, Almazzini, che ha avviato una petizione, ha già raccolto oltre 1500 firme. Chiediamo con questa petizione di porre maggiore attenzione ai siti esistenti e a ciò che in qualche modo nell'ultimo cinquantennio, anzi ormai quasi un secolo, le aree sono state infrastrutturate, attrezzate e su cui ha investito la popolazione. Quindi su questo secondo me è opportuno fare una riflessione più attenta attraverso gli studi di fattibilità, attraverso progetti di fattibilità capaci di fare queste tipologie di analisi, quindi un'attenzione maggiore agli aspetti tecnici e specifici di questi progetti che sono in itinere. Oggi state raccogliendo le firme attraverso un banchetto allestito in corso San Giorgio, cosa vi chiedono i Teramani che si avvicinano? I cittadini chiaramente, io faccio presente questo che come dicevi bene tu abbiamo già raccolto nell'arco di una settimana circa 1500 firme ma io penso oltre questo numero perché noi abbiamo distribuito un numero di moduli per la città, per le attività commerciali e quant'altro. Oltre credo 350 moduli, ora 350 moduli, ogni modulo contiene quasi 50 firme, ne sono rientrati già parecchi firmati e completati, quindi abbiamo aperto una pagina Facebook, un gruppo Facebook alla quale hanno aderito nell'arco di qualche giornata circa 250 persone. Secondo voi dai dati che state raccogliendo i Teramani vorrebbero mantenere a Villa Mosca l'ospedale? Io penso proprio di sì perché il numero è abbastanza elevato, nell'arco di una settimana aver raccolto già un numero superiore a 1500 firme, da qui a un mese ne avremo 10.000. E poi come dire le istituzioni, gli organi di competenza, la politica faccia le proprie riflessioni, è chiaro che decideranno loro e decidere giustamente come è giusto che sia, per noi è un momento di informazione, di divulgazione, di partecipazione spiegando ognuno le proprie ragioni. E' chiaro che la città sta rispondendo in questa direzione, uno studio un po' più attento sulle aree e sui luoghi che sono stati indicati e individuati è necessario.